Salve a tutti, oggi recensiamo questa Action Cam HD della Ti, modello V5S. Nella confezione troviamo oltre alla nostra telecamera tutta una serie di accessori stile GoPro che servono per utilizzarla in quanto Action Cam. Ad esempio troviamo il supporto per la bici, i supporti da casco con gancio rapido stile GoPro, inoltre troviamo il supporto impermeabile per immersioni fino a circa 60 metri, troviamo inoltre due filtri, uno polarizzatore e uno CPL per esaltare i colori, i contrasti delle foto e inoltre presente un utile sacchetto per trasportarla ed è inoltre presente un panno per la pulizia della camera ed un cavo di ricarica. Veniamo adesso ad esaminare in dettaglio la nostra camera che ha un corpo molto compatto con buoni materiali. Presenta nella parte frontale oltre all'obiettivo il tasto di accensione e spegnimento, la parte superiore il tasto utilizzato per navigare nei menu e abbiamo sul lato la possibilità con due frecce di navigare nei menu e attivare lo zoom ed inoltre sull'altro lato troviamo uno sportellino che nasconde le interfacce principali, mini HDMI, slot per la micro SD fino a 128 GB e porta mini USB per la ricarica. Per quanto riguarda l'utilizzo della telecamera, la navigazione nei menu è molto semplice ed intuitivo. Il menu è multilingue anche in italiano, la traduzione non è di grandissimo livello ma comunque si riesce a capire, può essere utilizzata per scattare foto e registrare video. Per quanto riguarda le foto scatta fino a 12 megapixel effettivi e ha uno zoom ovviamente non ottico ma digitale fino a 4x. Per quanto riguarda invece i video, registra fino a 4K a 30 frame per secondo e sia le foto scattate che nei video sono di ottima qualità. Infatti possono essere tranquillamente viste su uno schermo di un computer oppure di una televisione grazie al cavo HDMI e non sgranano una volta visualizzate su schermi più grandi. Inoltre consiglio per quanto riguarda i video, se registrati in 4K, di utilizzare micro SD molto capienti perché circa 10 secondi di video hanno come spazio occupato circa 30 MB. In generale, come vi dicevo, la qualità di questa camera è molto buona, gli accessori in dotazione permettono di utilizzarla in più circostanze, in più ambienti, subacque, mentre siete in bici, mentre camminate e via dicendo. Inoltre vi potete sbizzarrire a fare foto con i filtri. I contrasti dei colori sono molto buoni, inoltre la camera presenta la possibilità di connessione allo smartphone tramite wifi, scaricando l'apposita applicazione per Android e iOS. Mediante questa applicazione è possibile sia controllare in remoto la camera e inoltre scattare foto, registrare video in remoto ed infine è possibile trasferire foto e video appena scattate o video registrate sul proprio smartphone. E' venduta su Amazon a 89,99€ a settembre del 2016 e devo dire come prezzo è adeguato, in quanto la qualità è estremamente buona sia dei materiali che degli accessori in dotazione, ma soprattutto la qualità dei video e delle foto che scatta sono veramente buoni, superiore rispetto alle action cam che ci sono correntemente sul mercato. Il giudizio pieno, a mio avviso, è estremamente meritato. Grazie a tutti.